Inizia il pellegrinaggio della Diocesi con tappa a Fano Lotto. Esatto, inizia il pellegrinaggio delle Diocesi perché dal 5 al 10 di agosto tutte le Diocesi italiane sono chiamate a far mettere in cammino i giovani nell'anno del Sinodo dei Giovani che significa proprio camminare sulla via, camminare insieme, la parola Sinodo. E quindi la Pastorella Giovanile Nazionale ha chiesto a tutte le Diocesi di far conoscere i propri territori mettendo i giovani in cammino. Le Diocesi di Pesaro, Urbino e Fano, le Diocesi del Puff faranno il cammino interdiocesano. Partiremo domenica 5 agosto dalla Cattedrale di Urbino, passeremo per il Santuario del Pelingo, poi per i Cappuccini di Fossombrone, Mon Baroccio, il Santuario del Biato Santi e arriveremo a Fano l'8 di agosto, mercoledì, per poi concludere giovedì 9 a Pesaro. Il cammino continua poi in comunione con tutti i giovani delle Marche venerdì 10 agosto nella Basilica di Loreto e poi l'11 e il 12 ci aspetta Papa Francesco a Roma con tutti i giovani italiani. L'appello che faccio è per Fano soprattutto perché mercoledì 8 arriveremo in Cattedrale a Fano per la celebrazione delle 18.30 preseduta dal Vescovo Armando Trasarti, quindi l'invito è partecipare con i giovani pellegrini alla celebrazione eucaristica e soprattutto per il pernottamento perché ai giovani in ogni tappa sono invitati ad essere accolti dalle famiglie e quindi chiedo alle famiglie della città di Fano, che dovrebbero già saperlo perché in parrocchia gli avvisi sono arrivati, di andare dal proprio parroco e di dire io sono disponibile ad accogliere due giovani. Siamo in 140 quindi servono una settantina di famiglie per tutta Fano, credo che sia possibile, l'anno scorso l'abbiamo fatto anche nei nostri comuni più interni, più piccoli, quindi Fano potrebbe rispondere tranquillamente. Quindi andate dal vostro parroco, date la disponibilità per accogliere i giovani. Il senso di questo pellegrinaggio è mettere insieme giovani e adulti che si incontrano. Il pernottamento significa far fare una bella doccia che rigenera i ragazzi, dargli la colazione dopo il pernottamento e riaccompagnarli giovedì 9 agosto al mattino nella chiesa nuova della parrocchia del Carmine. Da lì inizierà l'ultima tappa fino alla festa del porto della parrocchia di Pesaro della Sina. Grazie.